Domenica 26 gennaio 2020, 26esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'acquario. La chiesa ricorda Santa Paola. L'onomastico. Oggi l'onomastico di Paola. Il nome ha origine antichissima e significa piccola. Paola ha una personalità complessa e immutevole e spesso alterna momenti di gioia ed euforia a momenti di malinconia e copezza. Accadde oggi. Il 26 gennaio del 1905 viene trovato nei pressi di Pretoria, Sudafrica, il diamante Cullinan, il più grande diamante grezzo ritrovato. Dal taglio della pietra saranno prodotti 105 diamanti, i più importanti dei quali entreranno a far parte dei gioielli della corona britannica. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 26 gennaio ricordiamo l'attore Paul Newman e il giornalista Corrado Augas. La citazione del giorno. Faccio che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai. Dannato se non lo fai. Ilionor Roosevelt Dice il saggio L'amore fa passare il tempo Il tempo fa passare l'amore Il bel paese Nel luglio del 2019, nella stazione di Punta Elbronner de Skye sul Monte Bianco, è stata inaugurata da Feltrinelli la libreria più alta d'Europa, a quota 3466 metri. Tra paesaggi mozzafiato immersi nel silenzio, è possibile leggere un buon libro in cima alle montagne, vicino al cielo, superando così limiti e confini. Per visitare questo luogo unico dovete però attendere l'estate. Infatti, la libreria Feltrinelli 3466 è raggiungibile tramite la funivia solo nei mesi di giugno, luglio e agosto.